Siamo qui in compagnia con Osvaldo Conte che è... Buongiorno a tutti, sono il funzionario coordinatore dell'azienda di turismo di Castellammare di Stabbia e ormai è diventata una tradizione ospitare nella sala presidenza dell'azienda tutte quelle iniziative che abbiano uno spazio importante, addiano uno spazio importante a queste associazioni di volontariate artistiche sul territorio. Siamo con Antonino Esposito che è il presidente, regista, nonché protagonista dello spettacolo Arezzo 29 in tre minuti. Come nasce l'idea di questo spettacolo? Ma a questo spettacolo nasce l'idea molto semplice, praticamente niente. La prima cosa è quella di avvicinare i giovani a un teatro particolare, un teatro classico, un teatro che è sempre di moda, un teatro che abbraccia le realtà di un tempo, di quasi 40 anni fa, alla nostra realtà. Quello di un figlio illegittimo, quello di nascondersi dietro peripezie per nascondere questo bambinello e con un pregiudicato che deve vendere poi questo bambino agli americani, quindi traffico di bambini che attualmente nei paesi sudamericani affligge questa dura realtà. Prima quinta poi nasce in primis per avvicinare i ragazzi, i giovani, i meno giovani al teatro. Ecco perché nasce questo spettacolo. Siamo qui con Sergio Celoro, attore professionista. Il perché della tua presenza oggi? Allora, sono qui oggi per salutare e per pubblicizzare lo spettacolo di un amico, Tonino Esposito. Lo spettacolo è questo qua, giovedì sera alle 20.30, Cineteatro Super Cinema, Corso Vittorio Emanuele 97, Castellammare di Stabbia. Sono qui, voglio pubblicizzare questo spettacolo perché sono legato a Doppio Filo e a Tonino che ha vissuto con mio padre tanti anni fa a livello scolastico e anche un po' a livello artistico alcuni momenti della sua vita e soprattutto perché il teatro amatoriale di Castellammare vive in questo momento attraverso la compagnia teatrale Prima Quinta un momento di ribalta e siccome a livello locale questo genere di persone, questi amici che vogliono con il teatro voglio portare un po' di sociale in città, voglio essere vicino a loro e aiutarli se il più possibile a portare gente a teatro quindi vi prego, vi invito, vi ordino di venire a teatro giovedì sera alle 20.30, vi ripeto. Arrivederci!